Presidente del Lions Ischia, Francesco Gallitelli, oggi accompagnerà il governatore nella zona rossa di Casa Micciola. Un gesto che dimostra come i Lions siano vicini alle popolazioni terremotate. Sì, diciamo che noi ci siamo attivati da subito, fin dal 21 sera se vogliamo, perché noi tra i nostri soci abbiamo delle persone che fanno parte della protezione civile e ci siamo subito attivati. Tra l'altro, oltre a attivarci noi personalmente come club Ischia e come nostri soci, ci siamo subito stretti al distretto, nella persona del dottor Franco Capobianco, che è il governatore, per coaduvare e darci una mano per la ricostruzione, per tutto quello che poteva essere dopo. E questo è stato coronato da una grande segnale da parte del Lions Club International dell'America. Governatore Capobianco, oggi a Ischia, tanta la solidarietà che è arrivata dai Lions e da tutto il mondo per le popolazioni colpite dal sisma di un mese fa. Sì, noi siamo qui per portare questa testimonianza forte di solidarietà agli amici ischitani, all'isola intera. Posso dire che l'Associazione Internazionale, attraverso la fondazione, ha già comunicato un contributo per l'emergenza di 10.000 dollari. A questo si è aggiunto un altro contributo inferiore, ma ugualmente importante come gesto da parte della SOSAN, che è un'associazione, una Ollus collegata al mondo Lion. e devo dire anche che c'è tanta solidarietà e c'è anche voglia di elaborare un progetto che possa essere misurabile, realizzabile e che possa raggiungere un numero di persone da servire tale da poter chiedere all'Associazione Internazionale, alla Fondazione Internazionale un contributo anche maggiore e anche ben maggiore per le esigenze dell'isola.